Luca Vido non sarà un giocatore del Pescara. Con la conclusione del Mondiale Under 20 sono iniziate le grandi manovre verso i gioiellini del Cittievani e sul centro avanti di proprietà del Milan, messosi in evidenza nell'ultima parte del campionato di Serie B alla Cittadella, si è fiondata l'Atalanta. Oltre ad essere un club di A, col Milan ha chiuso la trattativa per Frank Cassi ed ha in corso quella per Andrea Conti. Insomma, si è creata una corsia preferenziale che porterà proprio Vido a indossare il nerazzurro aerobico. Il Pescara può in qualche modo consolarsi sempre con una pista bergamasca, anzi una doppia pista. Quella che porta agli attaccanti esterni Emanuele Lattelat e Cristian Capone, i due gioielli della primavera dell'Atalanta, sono in procinto di essere girati in prestito in rival adriatico. Interessa tanto Capone, ragazzo del 99 che ha avuto una carriera folgorante a livello giovanile e ha impressionato Zeman. Anche Lattelat del 99, Ivoriano, arrivato in Italia all'età di otto anni e si è tolto la soddisfazione di segnare una rete alla Juventus in Team Cup lo scorso inverno. A proposito di attaccanti esterni, è destinato a rientrare in biancazzurro Francesco Nicastro, che non sarà riscattato dal Perugia. Difficile che il giocatore resti a Pescara. Bucchi, che lo ha allenato quest'anno, gradirebbe portarlo con sé al Sassuolo. Per il ruolo di centravanti, fatto salvo l'innesto di Simone Andrea Gans, quale titolare del tridente Zemaniano, come cambio si torna a parlare degli attaccanti della primavera della Roma, Edoardo Soleri e Marco Tuminello. Sul fronte delle uscite si registra il forte interessamento del Sion sul capitano Lejan Memushai, che si è messo in ulteriore evidenza domenica scorsa, andando in gol nella gara di qualificazione che l'Albania ha vinto, 3-0 in trasferta contro Israele. Ad agevolare l'operazione due fattori, il club elvetico ha scelto come allenatore Paolo Tramezzani, ex vice del CT dell'Albania De Biasi, peraltro proprio oggi dimissionario, e poi il fatto che il Pescara si libererebbe di un contratto oneroso e pluriennale. Per la difesa sembra praticabile la pista che porta al presidio del terzino della primavera dell'Inter Federico Vaglietti, fresco di titolo di categoria, improbabile l'approdo di Zigno Fanoisden, sempre dalla primavera nerazzurra.